73 persone che da un anno e mezzo sono in mobilità ed ora sta per sfumare anche quella. Passa il tempo ma l'immagine desolante degli interni di quello che era l'ipermercato Villa di San Cesario non cambia da quando la società tedesca Reve, detentrice del marchio, ha lasciato l'attività nel sud Italia. E non cambia, anzi aumenta, la rabbia dei dipendenti che adesso si sentono abbandonati anche dalle istituzioni e dagli stessi sindacati perché è arrivato il momento in cui si sentono drammaticamente soli. Per circa la metà di loro, per quelli cioè che hanno meno di 40 anni, la mobilità cesserà presto ma tanto, dicono, quelle liste sono carta straccia. La denuncia si riferisce al fatto che negli ultimi mesi sono stati aperti a Lecce diversi centri di grande distribuzione nuove realtà e nuove assunzioni senza che nessuno sia stato pescato dalle liste di mobilità. Chiediamo sia ai sindacati, alle istituzioni e a chiunque ci possa essere d'aiuto delle risposte affinché pure noi possiamo avere una nostra continuità lavorativa. Come mai dite di essere stati abbandonati? Non vi stanno facendo sapere più nulla? No, non sappiamo più nulla da nessuna fonte, non sappiamo più nulla riguardo all'immobile non sappiamo più nulla riguardo a quello che eventualmente i sindacati come aiuto ci possono dare e ci potranno dare in seguito. Il problema è che noi siamo da un anno e mezzo in mobilità iscritti nelle liste di mobilità, poi qualcuno mi deve spiegare a cosa serve essere iscritti nelle liste di mobilità. L'immobile è sotto sequestro come tutta l'Aedes perché sono finiti al tribunale giudiziario però non sappiamo a chi andrà a finire, da chi è gestito, se le banche lo compreranno siamo in balia delle onde. Forse ci costringono così a diventare delinquenti e voglio dire perché da mangiare qualcosa da mangiare sulla tavola dobbiamo metterla ogni giorno. E ancora, il 6 settembre scorso con una lettera che la Wiltux ha indirizzato a Loredana Capone e a Leo Caroli è stato chiesto un nuovo incontro istituzionale. Dopo tre giorni una risposta è arrivata via mail dall'assessore regionale allo sviluppo economico che si impegnava a parlare subito con la task force per fissare una data, poi il silenzio. Ad oggi la licenza commerciale è stata restituita al comune di San Cesario e la speranza dei dipendenti di tornare al lavoro sfuma sempre più ogni giorno che passa perché non si sa nulla neanche di possibili acquirenti interessati all'immobile di proprietà della milanese Aedes. Più che di immobile bisognerebbe parlare di una carcassa all'interno della quale sono aperti solo il bar e la rosticceria. Per il resto il capannone, sventrato, svuotato, è diventato in più di un'occasione rifugio dei senza tetto.